Si riferisce a 5 strutture immobiliari del territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, il Bando per l'individuazione del soggetto attuatore per la gestione del progetto SAI, sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati. Si tratta di 49 posti categorie ordinari, autorizzato alla prosecuzione fino al 31 dicembre 2025. Le strutture sono localizzate in via Stazione 25, in via Immacolata 74-76 e 78-80 e in via Manzoni 44. La montare complessivo dell'appalto è di oltre 1.700.000 euro, 341.000 per i sei mesi del 2023, 683.000 per il 2024 e lo stesso importo per il 2025. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 29 maggio. Per un altro settore, la pubblica illuminazione è stata approvata una perizia di variante sui lavori di manutenzione ordinarie e straordinarie di pronto intervento. I lavori furono aggiudicati alla ditta Energy Plan SRL con il ribasso del 16,53% sull'importo a base d'asta e quindi per un importo netto contrattuale di circa 20.000 euro. In corso d'opera, come si evince dalla relazione tecnica del direttore dei lavori geometra Salvatore Palano, si è riscontrata l'utilità di eseguire interventi non previsti, necessari per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto di pubblica illuminazione.